Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Io ti posso scrivere un libro. Tu devi vedere... No, vabbè. Ma c'è chi è? Ma cosa? Non hai visto con la macchina arancione? Eh, va tranquillo. Ma perché non lo stanno a sbattere contro tutti i pali? E sono... Eh, io non conosco. Eh... Non c'è, non c'è. Bucazzo di neve. Prendi i colpi piccoli qui. Vada. C'è davanti a me! Ha giampato. Lo 24. Porca troia. Di tutto quello dietro l'ho disintegrato. Di tutto quello dietro. Sono con lei, sono con lei, sono con lei. Merry Christmas figlio di troia! Ma io non mi sono accorto. Hai donato 30 patatini e non mi sono accorto. Non so di cosa stanno parlando. cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo il testazzo? Cosa stanno facendo? Dite me un po' pure a me che vi faccio curiosa. No, no, no. Arre, arre, non scriva quella parola. Cazzo che se no mi è ben mostrato. La tessera? Ah, sei un bastardo? Se è un bastardo. E ne vogliono un utilizzo. Ragazzi, ragazzi. Non sto capendo più. È così, eh, raga? È la mica colpa mia! è così è così è andiamo colpa mia cerchiamo di andare in fondo ci sono i quattro barilozzi se poi spostiamo tutto sinistra e prendiamo altri in questa cazzo di partita facciamo due alla fine della speed merda è bene 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 non ci può non farcela grazie parland si basso se basso ok allora fa ha arrivato proprio sarà 900 kat so старto io stavo могли dire relazione della magia allora mi spiega perché cazzo studiato in questa maniera un po scena ci sei fc sei figlio di puttana dai non ho mazza porco non ho mazza non ho mazza e cosa cazzo devo fare perché un coglione spara a lava e un altro coglione non ho un'idea di come cazzo sparare e se non utilizza il coso che fa o coia o coia non so il capace a giocare vaffanculo 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 dammi questa mazza dei ma dai ma dai questo non ce la farà non lo sa non ce la fa a farla detran questo è proprio scarso lo sa riesce a fare la detran non riesce proprio a passare i livelli allora prende solo i piselli oddio mio oddio mio oddio mio che porco ma perché mi avete parlato ma lei a lei ci sta vabbè l'hanno vista a me dispiace per questi due signori ragazzi se a santo stefano siete qui che ci stream sniperate sono veramente guarda non mi potete farla bere perché mi fate una tenerezza è una pena grandissima quindi mi dispiace che avete una vita di merda spero che continui a starvi di merda perché aveva la meritate ciao falliti andiamo per essere qui a sniper a santo stefano mi spiace tanto mi spiace tanto sottore cazzo devi avere veramente durimi in 8 august devi avere veramente una vita di merda minchia no 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 non mi fermo più prima di andare a vedere il video principessa sono elegante sono educata e sono bellissima e vabbè come cazzo è la mia carretta per favore come cazzo è il capo come cazzo è il capo come cazzo è il capo come cazzo è il bosca che cazzo è il bosca si è salvato e vabbè è finito grazie bosca per avermi ricordato quanto sono un coglia il guidatore del camion era in prono la clip adesso non uscirà quindi cosa è successo mi hai rapito per cosa è successo ora ti ho rapito oddio perché vado rutino andiamo vada vada tommy quando la fa mi chiude poi lì ci mi passava da qua per fuoco è quella di prima questo oh vai che dobbiamo fare eh no no questo è diverso metto più figa climbing l'importante era prendere il livello l'importante era prendere il livello ciao caro grazie di cuore cominciano a farsi difficili attenzione adesso si comincia a scherzare già un po' meno diamo riso a livello 256 la stazione è un po' 42